Siamo qui con il primario del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Santimotio di Termoli, Giuseppe Germele. Dottore, si è sollevata una polemica in Regione perché lei lavora in reparto privo di Green Pass. Come mai? Per la verità, dunque, io ho fatto solo la prima dose. Poi ho avuto una reazione che mi ha provocato un'amaurosi sull'occhio destro che ha durato almeno cinque giorni, poi gradualmente mi è passata e quindi per la seconda dose, peraltro programmata, ho avuto qualche perplessità e confesso anche un po' di timore. Poi se voglio condannare perché ho paura, ragazzi, io ho messo tutta la mia esperienza e capacità sia nell'organizzazione nei momenti più difficili. non mi sono tirato indietro anche di fronte al fatto che in carenza d'organico siamo in sette e sarei già potuto andare in pensione. Mi hanno chiesto se potevo restare per dare una mano in queste situazioni, ancor più quando si è verificato appunto questa epidemia. Ma dottore, questa reazione avversa che lei ha avuto dopo la prima dose del calo della vista rientra nel protocollo degli effetti dei collaterali o è nuova? Non lo so, io questo non lo so. Potrebbe essere anche, avrei dovuto fare, dopo ho rimandato perché man mano mi è ritornata, anche se non è in piena efficienza, ma presuppone quantomeno una risonanza da vedere. Fortunatamente da un punto di vista motore non c'è avuto nulla. Sa, nessuno ci può dire con precisione quello che può succedere, perché al limite potrebbe essere un interessamento vascolare, quindi da medico, adesso sto parlando da medico, cercando di razionalizzare quello che potrebbe essere un timore. Lei ha fatto presente all'ASREM che non poteva accedere alla seconda dose, però è rimasto in reparto, perché? Un po' perché, per dovere professionale, perché sennò l'ASRE sarebbe dovuto un po' chiudere tutta la baracca. Ho cercato, concordando con la dirigenza, una calendarizzazione di una seconda dose. Quindi lei adesso farà la seconda dose? Ha sentito degli specialisti, si è già prenotato? Sì, sì, sì. Ma l'avevamo già fatto prima che succedesse tutto questo putiferio, quindi potevo già stare in pensione dall'anno scorso. Quindi, soprattutto poi in una situazione emergenziale come questa, mi è sembrato una vigliaccheria. Ma lei si ritrova nelle frasi riportate e drammatizzate da Rai Tremolise? La mia considerazione, in merito a quello che è stato detto, mi è sembrata una giusta posizione dei pezzi messi là. Uno può anche scherzare, può anche dire, Allora potrei parlare di Orwell, che ne so. Allora, senza un po' più manco parlare. Devo dire questo, non credo che ci sia qualcosa da parte dei colleghi. Potrebbe essere un altro a livelli inferiori che fa queste sparate. Però quello che a me stupisce è che chi ha più intelligenza faccia da cassa di risonanza. Allora a me sorge il dubbio, in maniera razionale, ma a chi giova? Non lo so, so di troppo, ma io me ne posso andare anche domani, signori miei. Allora a me sorgto.